Anche chi serve in sala deve a mio avviso ricordarsi che è buona cosa saper raccontare quello che si propone, quindi quello che si cucina, gli ingredienti che si usano e come si sono preparati. Quindi il saperli raccontare fa vivere sicuramente un'esperienza di maggior spessore a chi è lì per passarsi una bella serata o un momento per mangiare. Un corso di tre giorni per 15 ristoratori padovani per imparare anche dal teatro. Sì, perché queste nove ore di formazione vogliono proporre una contaminazione tra il mondo dello spettacolo e le attività ristorative. Un'idea che nasce proprio dai clienti, degli esercenti. Da un'esigenza manifestata dai clienti, dai ristoranti, una maggiore empatia da parte del personale di sala che deve essere professionista non solo nelle tecniche ma anche nel saper interpretare i bisogni più o meno manifestati da parte dei clienti. Esercizi e attività che solitamente vengono applicate alla recitazione possono aiutare anche la gestione di un pubblico esercizio. Lo spazio è un compagno di scena che c'è in qualunque attività che facciamo. Spesso ci se ne dimentica perché essendo fatto di vuoto non ci viene così naturale considerarlo. Invece esiste ed è qualcuno che è insieme a noi. Rifarsi al training teatrale per raccogliere applausi anche al ristorante. Quindi puntate all'Oscar. Diciamo di sì.